due amiche si incontrano e dopo un po' una fa ma la sai la novità no dimmi marta e franco si separano e questa non me l'aspettavo e come mai ma di chi è la colpa scusa è di franco è un pomeriggio è tornato un'ora prima dal lavoro senza avvisare